Domani, venerdì 31 maggio, Noemi Sciarretta compirà 7 anni. La bimba di Guardie Grele, che fin dai primi mesi di vita lotta contro l'asma 1, patologia neuromuscolare degenerativa da cui affetta, festeggerà il suo compleanno con un evento che si terrà domenica 2 giugno alle ore 18.30 all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, animato dall'attore tietino Federico Perrotta. Sarà possibile partecipare alla festa Buon Compleanno Noemi con una donazione minima di 20 euro. Il ricavato sarà destinato all'associazione Onlus Progetto Noemi, fa sapere Andrea Sciarretta, papà della piccola Noemi, che annuncia che è possibile prenotare i biglietti anche online sul sito della Onlus oppure sulla pagina Facebook dell'associazione. Ovviamente questo è un grandissimo giorno per noi perché 7 anni vuol dire che deve accrescere in ognuno di noi la consapevolezza dell'esistenza, cioè l'esistenza di centinaia di famiglie come Noemi che combattono contro patologie gravissime, nonostante l'assistenza domiciliare e l'assistenza sanitaria è inadeguata. E in più non ci sono nemmeno tutele per il genitore caregiver. Le nostre finalità ovviamente sono l'aiuto e il sostegno alle famiglie. Noi aiutiamo famiglie in difficoltà economica, in più siamo molto impegnati nel percorso del progetto di terapia subidenziale pediatrica all'interno dell'asile di Pescara e in più cerchiamo anche di essere un po' da pungolo per la ricerca perché purtroppo ad oggi la scienza ha grandissimi limiti nelle patologie complesse come quella di mia figlia Noemi. La SMA1 esistono diversi farmaci ma in verità non c'è una cura che possa dare risposta a chi ha gravi compromissioni. Quindi noi cerchiamo di unire la solidarietà, la beneficenza a favore concreto di chi combatte senza alcun mezzo purtroppo. Federico è un amico, è diventato un amico di famiglia, di Noemi ma soprattutto è un amico di vita perché comunque ricordare il compleanno di Noemi è l'unico giorno che noi alziamo realmente la Coppa al cielo perché diciamo ce l'abbiamo fatta quest'anno, abbiamo vinto sulla SMA1, abbiamo vinto sulla disabilità. La differenza la fa chi verrà il 2 giugno domenica a festeggiare questo grande traguardo ma più che altro a capire cosa stiamo facendo, cosa stiamo costruendo e cosa vorremmo fare grazie alla solidarietà.